Presidente, analizziamo questo momento, sicuramente non felice dell'Akragas, due pareggi consecutivi in campionato, la sconfitta in Coppa contro la San Cataldese, qual è il suo stato d'animo? Noi siamo abbastanza sereni perché comunque sono partite che avremmo meritato la vittoria anche a San Cataldo, però gli episodi non sono stati dalla nostra parte. Però la nota confortante è che la squadra continua ad esprimere un buon gioco, magari non abbiamo finalizzato per quello che produciamo, però sia a San Cataldo che domenica, ma anche col Castellammare abbiamo fallito 5-6 palle gol, quindi con un po' più di cattiveria ma anche di fortuna che in questo momento è mancato, penso che ci sarà un'inversione tendenza. Poi purtroppo mi rendo conto che ad agrigento si enfatizza tutto nel bene o nel male, perché guardando la classifica le uniche due squadre in battute sono l'Akragas e il Dazzilo, mentre qui qualcuno, fortunatamente qualcuno, diciamo, respira un'aria da funerale perché non abbiamo vinto delle partite. Mi sembra veramente assurdo, quindi dobbiamo un pochettino calarci nella realtà di un campionato difficile dove due battute d'arresto, addirittura vengono viste due pareggi e due battute d'arresto. Alla fine abbiamo fatto un pareggio in casa e un pareggio fuori casa, non è che se avessimo perso allora cosa sarebbe dovuto accadere. Per cui cerchiamo di essere realisti, distingereci attorno alla squadra, siamo alla quarta giornata, emettere sentenze o nel bene o nel male, ancora siamo veramente all'alba. La cosa, ripeto, confortante è che la squadra è anche in un campo di patate, come è stato quello di Belmonte, dove giocare a calcio era difficile, ha sciorrinato buone manovre. E purtroppo però non è arrivato il gol e quindi la partita è fita 0-0, però io sono abbastanza sereno, la squadra è abbastanza carica, con il rientro degli infortuni, penso che si ritornerà al successo. Spero anche domenica perché lo vogliamo a tutti i costi. Sappiamo di affrontare una grande San Cataldese, ben allenata dall'amico Sebi Catania, però domenica non guarderemo in faccia a nessuno, cercheremo di raggiungere la vittoria. Poi se così non sarà, ne prenderemo atto, però la squadra è abbastanza carica e determinata per raggiungere tre punti. Soddisfatto del lavoro fin qui svolto da Mr. Mutolo? Sì, assolutamente sì, perché se la squadra ha un'identità in campo, se colleziona delle occasioni da golle, evidentemente è frutto di un lavoro settimanale. Io non ho visto giocare il Dattilo, ma chi ha visto giocare il Dattilo a me non mi interessa entrare in casa altrui, però mi dicono che sotto il profilo del gioco l'Agregas esprime un gioco migliore. Nel senso che il Dattilo è una grandissima squadra, un'ottima squadra, ma fatta da grandi individualità. Sotto il profilo della manovra, della collettività, l'Agregas mi dicono che chi ha incontrato entrambe le squadre ha un gioco più brillante, più armonioso. Poi, voglio dire, progetti quando si iniziano non si lasciano mai a metà. Noi abbiamo iniziato un progetto con Mr. Mutolo per quanto mi riguarda e per quanto riguarda quelli che sono gli unici soggetti che possono parlare in questa società perché sono i proprietari. Io, Salvatore Marrone e l'architetto Brucco Levi. Tutti gli altri non hanno voce in capitolo, nel senso sono addetti ai lavori, sono dipendenti della società e quindi alla fine la prenderemo noi la decisione. Ma la decisione nostra è quella di continuare con Mr. Mutolo, con il quale peraltro vorremmo intraprendere un cammino non legato solo a questo campionato, ma anche al futuro. Perché questa squadra noi l'abbiamo costruita non soltanto per questa stagione in corso, ma per poi, qualora dovessimo vincere il campionato, inserire degli innesti e un cammino di serie D. Quindi il progetto ha anche sede nel corso del suo cammino, ha degli ostacoli, non è che deve essere messo in crisi. Per quanto mi riguarda, anche se qualche tifoso, magari un po' frettolosamente o perché è un qualcosa che va di moda, ha messo anche in dubbio l'operato di Mr. Mutolo. Ma chi lo vede lavorare, chi lo conosce, chi soprattutto ci lavora ogni giorno e sono i giocatori, ne parlano bene. Quindi non c'è motivo di metterlo in discussione, anzi lui deve stare sereno, ha la massima fiducia alla società ora e penso per la fine del campionato. Poi, sai, nel calcio mai dire mai, se dovessero succedere dei cataclismi, ne prenderemo atto e prenderemo le nostre decisioni. Però, allo stato attuale...